Tutto pronto, si aprono le gabbie. Partiti, cavalli della quarta del pomeriggio. Una partenza per tutti, il più lento, leggermente lento, a partire è Little Prince. Actis, come da copione, la più svelta, la più sollecita, portandosi subito a condurre insieme a Tago Island, Morgan Blonde, Crystal Wind. La seconda linea è completata dalla giuba rossa di Mangasmara, poi Dreamhouse, che si è messo vicino alla corda, complice anche lo steccato basso. Poi April Galaxy, Royal Cotai, Little Prince, Aldera Min, poi Top Diligence e via via gli altri. Quando siamo già in dirittura d'arrivo, con una certa velocità, sempre Actis in vantaggio. Sotto la pressione esterna da parte di Tago Island, Morgan Blonde, che va per corsie esterne, poi si fa sotto tre cavalli anche Dreamhouse, che in maniera molto incisiva perviene sulla prima linea. Gli altri in seconda linea sono Crystal Wind, April Galaxy, Mangasmara e tutti gli altri, che però sono abbastanza lontani quando mancano 300 metri dal traguardo. Morgan Blonde è in leggero vantaggio allo steccato opposto. Tago Island che sferra l'attacco insieme a Dreamhouse con il pesone dall'interno è in leggero vantaggio. Dreamhouse deve respingere l'ultimo attacco da parte di Tago Island e c'è anche April Galaxy. Nel tratto conclusivo, Dreamhouse viene a vincere battendo Tago e April Galaxy. Con una conferma per il vecchio Dreamhouse, vecchio anche in questo caso, in senso affettuoso, sette anni, decima affermazione in carriera, 3,50 la quota conclusiva. Questa mattina era possibile trovarlo anche ad una quota superiore al 4. Fabio Boccardelli al training, i colori sono quelli di Vittorio Ceccarelli. Germano Marcelli, come detto, in sella numero uno al primo posto. Vediamo un po' il secondo, chi lo ha ottenuto, perché c'è Tago Island ma poi anche il finale da parte di April Galaxy. No, tutto confermato con Tago che ottiene il secondo posto, April Galaxy il terzo. 1, 2, 4, handicap dunque per pesi alti, da capannelle per la quarta. È tutto. Grazie a tutti.